E dal Piemonte ci spostiamo ora in Veneto dove nei giorni scorsi il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge del gruppo della Lega Nord che istituisce il marchio Qualità Veneto, un marchio che ha l'obiettivo di tutelare i consumatori difendendoli da frodi e produzioni scadenti ma anche di difendere le imprese venete che hanno fatto della qualità e del rispetto delle regole e dei punti cardine, ha affermato l'assessore al bilancio Roberto Ciambetti. Su questo progetto di legge per il nostro inviato Bressanelli ha sentito il Presidente della Commissione che si occupa di Industria, Artigianato e Lavoro, Luca Baggio. Nasce finalmente legge il Made in Veneto, il marchio di qualità Veneto. Sì, è un marchio di qualità, è un progetto della Lega Nord ancora datato di qualche anno, è stato seguito dalla terza commissione di cui io sono Presidente, abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro di squadra e abbiamo cercato di portarlo avanti, nel corso di questo periodo è stato corretto e migliorato in alcuni aspetti. Il marchio Veneto diventerà un marchio importante e si colloca come altri marchi. Noi in qualche modo ci siamo ispirati all'Alto Adige, ma così ha fatto anche la Puglia, cercando di mettere in vetrina il meglio che la nostra ragione può dare. Vi sono alcune note importanti su questo progetto, direi che la prima e la più importante è che rispetto agli altri, in questo progetto di legge, perché uno possa in qualche modo freggiarsi del marchio di qualità Veneto, devono essere rispettati i diritti dei lavoratori, quindi non vi deve essere lo sfruttamento minorile e tantomeno in genere lo sfruttamento dei lavoratori. Deve essere, per potersi freggiare del marchio, sottoposto a un disciplinare, che dovrà contenere, conterrà una serie di indicazioni, alle quali colui che in qualche modo intende poi porlo in evidenza, il nostro marchio, quindi il marchio Veneto, dovrà assolutamente attenersi. Chi potrebbe appunto essere interessato ad avere il Made in Veneto? Ma io direi tutte quelle aziende che, soprattutto, intendono lavorare in maniera seria, cercando soprattutto, oltre al rispetto ai lavoratori, cercando di adoperare quanto più possibile le materie prodotte nel nostro paese, cercando soprattutto di mettere in luce anche la qualità dei nostri prodotti. Già, c'era qualche azienda che sollecitava, già da tempo, appunto, la creazione di questo marchio di qualità Veneto? Ma noi abbiamo un'azienda veneta di Rovigo, che è leader al mondo nella produzione dei jeans, e quindi di pantaloni e altro, che nel proprio marchio, in inglese, esplicitamente scrive prodotto, fatto a mano, una regione dell'est dell'Italia, in Veneto. Quindi qualcuno ci aveva già pensato. Questo perché? Perché Veneto, per noi, deve diventare una garanzia, quindi sinonimo di qualità.